Formula Track Che pensa Luca superano i mille cavalli di potenza? Hai detto bene Alberto, seguiremo l'intero campionato con filmati originali, ospiti in studio, interviste ai piloti e ai tecnici e i commenti sulle gare. E a ottobre gran finale in pista Misano con le gare, le interviste ai campioni, le premiazioni. Misano, circuito storico per i track, dove siamo media partner. Un appuntamento assolutamente da non perdere, seguiteci sul nostro canale YouTube e sui canali social di Trasportare Oggi e vado e torno. Vi aspettiamo, ciao!